Sono 18 le persone finite in carcere o agli arresti domiciliari nell'ambito di un'articolata indagine della Guardia di Finanza di Piacenza, coordinata dalla Procura della Repubblica. Si tratta di soggetti dediti ad attività di spaccio nella provincia di Piacenza e nell'Interland milanese. Sono anche stati sequestrati 5 kg di marijuana e quantitativi ridotti di cocaina e dashish. I 18 arrestati sono, a vario titolo, accusati di produzione, traffico, detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso tra di loro. Tutto è nato da alcune informazioni raccolte dalle fiamme gialle su un tentativo di importazione di anfetamina attraverso la Darknet, utilizzando per il recapito il sistema postale. Le intercettazioni e gli appostamenti hanno consentito di documentare vari reati connessi al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte di soggetti di varie nazionalità, sia in territorio piacentino, sia in zone limitrofe della Lombardia.